Franco Basaglia diceva che dietro la malattia e la sofferenza spesso vi è una storia di ordinaria infelicità che deve essere condivisa e supportata perché non ci deve essere figli di un Dio minore. Hanno messo in mostra le diverse abilità per valorizzare l'esperienza dei laboratori artigianali. Al Pionta è stata così una giornata di festa per celebrare la chiusura dell'ospedale psichiatrico Aretino a 33 anni di distanza era infatti il 29 giugno 1990. I laboratori della salute mentale a Rezzo sono tre ad oggi. Un laboratorio si occupa di giardinaggio e orticoltura, un altro di cuscito e tessitura e il terzo è un laboratorio di bricolage e falignameria. Sono un momento importante per persone che escono da un momento di criticità per recuperare spazi di normalità, di condivisione con gli altri e anche per rimettersi in gioco. Tra i promotori dell'iniziativa Vive il Pionta anche il centro, Franco Basaglia, da sempre impegnato a combattere fenomeni di esclusione e al fianco dei più fragili. Perché abbiamo voluto far vedere ciò che fanno nei laboratori e avete visto le diverse abilità, cosa sono capaci di produrre? È che spesso i ragazzi, oltre questo, dove trovano anche operatori dedicati, hanno il sostegno delle famiglie, però le famiglie potrebbero vedere anche uno sbocco lavorativo che possa dar ragione a queste diverse abilità, soprattutto per persone più giovani che stentano invece a trovare un inserimento reale. Grazie.